Ormai due settimane fa c'è stato il golpe d'estado, o comunque una parte della stampa lo definisce così, se riesci a darci proprio un contesto rapido su quello che è successo fino a quello che è successo ieri e oggi. Io non credo che sia di fatto un colpo di Stato, credo che sia una continuazione di quello che sta accadendo in Ecuador ormai da anni, la situazione ecuadoriana è al limite da molto tempo, solamente che la stampa internazionale non se n'era veramente resa conto, ora il primo campanello d'allarme grosso che ha fatto girare le immagini e il problema dell'Equador su tutti i giornali internazionali è stato l'assassinio di Villa Vicencio, quindi un candidato presidenziale che è stato ucciso, freddato proprio, una vera e propria esecuzione durante le ultime elezioni, quindi se si arriva ad uccidere un candidato in un paese democratico vuol dire che comunque in narcotraffico è arrivato veramente alle più alte sfere di potere, parlo di corruzione e infiltrazione del potere tanto dell'apparato statale quanto di quello militare. Poi quello che è accaduto adesso, che appunto è stato eletto da poco Daniel Noboa, che è il presidente più giovane dell'Equador, ha solo 35 anni, è un candidato che non si può definire né di destra né di sinistra, però è sicuramente un candidato dalle forte idee neoliveriste e il suo governo durerà poco, cioè sostanzialmente sarà comunque un governo di un anno, però si è trovato a gestire una situazione veramente drammatica. Ha scelto di reagire con la forza da parte dello Stato alla crisi di sicurezza che c'è nel paese, questa cosa non è stata fatta gradita dai narcotrafficanti che quindi hanno fatto evadere il più importante narcotrafficante che era nelle prigioni ecuadoriane e nel momento in cui è scappato c'è stata una fatta risposta da parte dello Stato e da parte dei narcotrafficanti c'è stata una risposta ancora più forte, perché sostanzialmente hanno iniziato a rapire le persone in massa, tipo nelle università, soprattutto a Guayaquil, che è la città più pericolosa dell'Equador, hanno iniziato a uccidere e fare rapine molto violente, fino ad entrare appunto in diretta nello studio televisivo. E a quel punto Daniel Novoa si è visto anche costretto a dichiarare lo Stato d'emergenza riconoscendo che c'è un vero e proprio conflitto in atto in Ecuador con le bande armate, però questo conflitto in realtà c'era anche quando sono andata io a coprire per Repubblica il primo turno delle elezioni presidenziali, c'era già un conflitto in atto, solamente i giornali non avevano dato tanto risalto alla cosa. Invece io volevo chiederti, in seguito poi all'evasione di Fito e Capitan Pico, insomma due nomi non sconosciuti nel panorama dell'Equador, in carcere poi sono scoppiate delle rivolte che probabilmente sono connesse a dei regolamenti tra bande criminali. Qual è la situazione quindi delle gang in Ecuador e di cosa si occupano a livello internazionale, a chi sono legati, perché ci sono stati poi questi scontri nelle carceri? Allora in Ecuador in questo momento ci sono le gang legate all'arcotraffico più potenti a livello mondiale, quindi ci sono le mafie italiane, sicuramente l'andrangheta che è stata documentata che sia in Ecuador, ci sono i cartelli messicani più pericolosi al mondo, ci sono anche quelli colombiani e peruviani, c'è anche la mafia albanese per dire, quindi in questo momento in Ecuador c'è veramente chiunque legato all'arcotraffico, perché comunque è il paese che è diventato il corridoio principale da cui parte soprattutto la cocaina diretta verso l'Europa. Nelle carceri la situazione è drammatica e non è da adesso, cioè le carceri sono la chiave per capire la drammaticità della crisi di sicurezza che sta vivendo il paese, perché sostanzialmente è stato dalle carceri che è iniziato a cadere tutto, adesso da anni quando una persona entra nel carcere non finisce nelle mani delle guardie carcerarie, ma finisce nelle mani dei narcotrafficanti, quindi i narcotrafficanti da dentro le prigioni reclutano nuovi adepti che vengono anche inclusi in modo forzoso dentro delle nuove bande e in più dirigono tutte le operazioni all'esterno, quindi le carceri ecuadoriane di fatto sono gli uffici delle gang dei narcotrafficanti, quindi gli scontri dentro alle carceri avvengono sempre, perché appunto quando magari c'è un problema di potere fra due bande iniziano a scontrarsi all'interno delle prigioni e inoltre quando ci sono queste situazioni di caos all'esterno, la prima cosa che fanno è fare delle rivolte interne, quindi costringere anche gli altri detenuti che appunto magari non sono neanche legati al crimine organizzato a ribellarsi, a uccidere degli altri detenuti e a prendere in ostaggio le guardie carcerarie, quindi da quando è scoppiata questa situazione emergenziale sono centinaia le guardie carcerarie che sono tenute ostaggio all'interno delle prigioni ecuadoriane. A riguardo, noi abbiamo in mente un'idea di narcotrafficante un po' filmografata per cui che agisce in un certo modo, cosa vuol dire appunto fare i conti col narcotraffico per un cittadino ecuadoregno, quali sono gli ambiti in cui appunto agiscono? La vita dei cittadini ecuadoriani in questo momento è completamente influenzata dal narcotraffico, nel senso che tanto a Quito come a Guayaquil, quindi le città più grandi del paese, le persone escono dal lavoro e vanno dirette a casa, quindi comunque se si cammina per le città dalle quattro di pomeriggio in poi sono completamente svuotate. C'è anche l'idea di andare a un ristorante alla sera in questo momento è estremamente proibitiva e tutti ti sconsigliano di farlo. Ad esempio io sono stata a Lilton quando mi ha inviato Repubblica e davanti a Lilton tutto il viale era bloccato, cioè per evitare sequestri sotto proprio all'hotel la polizia aveva bloccato tutta la strada e ogni volta che si usciva dall'hotel comunque il tassista o il tuo autista privato doveva controllare ad ogni angolo che non ci fossero delle macchine pronte a sequestrarti, perché i sequestri comunque sono veramente all'ordine del giorno, tanto per gli stranieri quanto per i cittadini comuni. In più qualsiasi persona che abbia un'attività commerciale, anche la più informale, anche la più piccola deve pagare la vacuna, con vacuna si intende il pizzo, però è molto importante che venga chiamata così, perché sostanzialmente la chiamano vacuna, vaccino, perché è l'unico modo per sopravvivere sostanzialmente. In più i cittadini ecuadoriani non devono solamente proteggersi dall'arcotraffico, ma anche dalle forze armate, perché ad esempio ci sono stati decine di casi di falsospositivos cittadini qualsiasi che vengono uccisi dalle forze armate, che poi li definiscono come appartenenti all'arcotraffico, che hanno posto l'esistenza nel momento dell'arresto, ma in realtà erano cittadini qualsiasi che sono stati uccisi per errore. Quindi la vita degli ecuadoriani in questo momento è completamente stravolta dagli narcotrafficanti. Secondo te, alla luce dei recenti avvenimenti a cui tutto il mondo ha assistito, ci può essere un rischio concreto per la libertà di stampa nel paese? Cioè è possibile che in un futuro il governo debba essere costretto a filtrare linguaggi e contenuti per quanto riguarda la stesura di pezzi, di articoli di giornale sul narcotraffico? Guarda, la libertà di stampa è già molto messa in pericolo nella quodora, nel senso ad esempio se tu cerchi articoli sui falsospositivos non ce ne sono. Comunque lo Stato non riesce a proteggere i magistrati che si occupano del narcotraffico, figurati giornalisti. Quindi comunque quando si parla di Ecuador, di narcotrafficanti, di inchieste giornalistiche sui narcotrafficanti sono quasi tutte inchieste fatte a livello internazionale. Perché comunque se tu adesso sei un giornalista ecuadoriano è molto difficile che tu ti metti a scrivere inchieste per le proprie sul narcotraffico perché sai benissimo la fine che farai. Quindi in realtà la libertà di stampa è già molto debilitata in questo momento, cioè non è una cosa da pensare nel futuro, cioè nel presente. Capito. Io ho letto l'intervista che hai fatto a Correa, molto bella, e appunto gli chiedevi circa le cause della situazione che è scoppiata nelle ultime settimane e lui ti faceva, ti dava un po' dei fattori, chiaramente è una visione parziale perché vuole portare acqua al suo mulino. Tu con gli elementi che hai, un quadro più completo, quali pensi che possono essere le cause? Chiaramente è difficile, però cercando di riconoscere un po' dei fattori. Allora io credo che chiaramente abbiano influito degli eventi storici, cioè ad esempio gli accordi di pace in Colombia hanno fatto sì che molti narcotrafficanti dovessero spostarsi da quell'area e trovare un nuovo porto da cui inviare la droga sostanzialmente, ed è accaduta la stessa cosa in Peru e in Colombia. Credo che poi quello che sia successo è che l'Ecuador non era affatto preparato a quello che sarebbe successo, perché storicamente sì, hanno sempre avuto dei problemi legati al narcotraffico, ma molto molto piccoli, quindi a differenza della Colombia e del Messico per esempio, non avevano una struttura tanto militare come statale e politica pronta ad affrontare i cartelli più pericolosi al mondo, quindi quando i cartelli hanno iniziato a spostarsi hanno trovato un terreno super fertile, nel senso che comunque hanno trovato un paese in cui corrompere era estremamente facile e quindi sono riusciti molto velocemente a conquistare le carceri e a infiltrarsi a qualsiasi livello, tanto quello della giustizia come quello militare. Invece informandomi appunto sulla situazione della criminalità, abbiamo notato che in sei anni il tasso di criminalità del paese è cresciuto di sette volte, quali sono le cause secondo te che hanno portato a questa situazione così critica? Allora c'è sicuramente un problema di microcriminalità nel paese dovuto anche a una migrazione interna di persone che cercano di andare a sé dell'Equador verso i paesi limitrofi, ma che magari arrivano dalle zone amazzoniche e si spostano, chiaramente sono persone molto molto povere, quindi c'è anche un alto tasso di microcriminalità, però quando parliamo di microcriminalità in Ecuador parliamo di persone che magari vengono uccise per un cellulare o comunque parliamo di ragazzini che cercano di aprite la borsa con dei macete, quindi comunque microcriminalità insomma piuttosto pericolosa e questa microcriminalità è dovuta anche a una grossa crisi economica, cioè ad esempio quello che ha fatto il governo di Correa è stato cercare di far crescere il paese dal punto di vista economico, soprattutto andando a combattere la fame e la povertà nelle classi più disagiate del paese, anche per combattere il narcotraffico, perché il narcotraffico si nutre di situazioni di disagio sociale, quindi quando ad esempio ci sono ragazzini molto poveri che letteralmente non hanno di che mangiare, è molto facile che poi quei ragazzini cadano nelle mani delle gang legate al narcotraffico, dato che non hanno altra forma di sostenersi e sostenere anche la propria famiglia, in più ci sono comunque i quartieri a Quito, a Guayaquil che sono completamente gestiti dal narcotraffico, a partire dalle scuole alle aiuti alle famiglie più povere, anche come funzionava nella mafia italiana nel sud negli anni passati, laddove c'è un disagio sociale, laddove non arriva lo Stato, se ne fa carico il narcotraffico diventando di fatto un secondo Stato parallelo e questo poi fa sì che sia molto difficile raccogliere le denunce dei cittadini, che comunque sono più solidali con il narcotraffico che non con lo Stato che li ha abbandonati. Io faccio la mia ultima domanda, è che in realtà è una sorta di richiesta di previsione sui prossimi mesi, è difficile però anche pensando al fatto che Noboa resterà in carica soltanto per altri 16 mesi e quindi comunque una situazione di precarietà che andrà avanti fino al prossimo presidente. Niente, volevo capire, tu cosa ne pensavi? Chiaramente avere un governo che dura di fatto un anno e mezzo, quindi è niente, la situazione non potrà risolversi e quindi io credo che andrà peggiorando purtroppo, credo che questo sia solo l'inizio e anche perché è veramente una situazione che va avanti da tanto tempo e che sembra irrisolvibile. Io credo che sia importante anche da parte dei governi europei prendere atto di quello che provocano i nostri consumi, nel senso comunque la richiesta di cocaina in Europa è sempre in crescita e l'Equador è messo così perché moltissimi cittadini europei il sabato sera sniffano cocaina. Quindi anche il fatto che evidentemente non prendiamo abbastanza sul serio questo tipo di indagini, non blocchiamo abbastanza i container che arrivano dall'Equador ha portato a questa situazione, anche perché per combattere il narcotraffico serve comunque un coordinamento a livello internazionale, cioè non è una cosa che può fare l'Equador da solo. Quindi purtroppo la situazione io la vedo drammatica.